Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Onda Marina e oggi apriremo questo qui, Scribblen House, un maschid che ho preso alla fiera allora, si possono trovare questi personaggi qua poi uno a sorpresa, che penso della Savo, ma se a Maxwell, meh, non lo so, però non lo so allora, apriamo ho trovato questo, questo qui poi qua c'è anche il quaderno di Maxwell, dove scrivere le cose, che sarebbe la base di questo personaggio qua, perché in PD non ci sta perché Maxwell con questo quaderno qua, crea tante cose ok, aspettate ok, ecco qua niente, spero che il video apertura vi sia piaciuto, ciao e al prossimo video ciao 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 ciao